Temu è l'app più scaricata nell'app store americano. In Italia invece è in terza posizione, un risultato decisamente rispettabile. Il grafico del Google Trend delle ricerche di Temu è anche, a dir poco, impressionante. Oltre a questo, nell'ultimo trimestre PDD Holdings, la società che detiene Temu, ha portato ai risultati strabilianti. I ricavi sono cresciuti del 94% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Temu è un e-commerce cinese che sta portando una crescita veramente spaventosa. Di gran lunga superiore addirittura rispetto a Shane che sta crescendo in maniera pazzesca a sua volta. Adesso immagino vi starete chiedendo, ma cosa c'entra PayPal? PayPal è semplicemente la prima scelta di pagamento che si trova su Temu. Questo chiaramente avviene perché generalmente i consumatori tendono tantino a non fidarsi dei siti cinesi, perciò utilizzano PayPal che è la scelta di pagamento più sicura. Questo significa che grazie alla crescita impressionante di Temu, probabilmente PayPal sta accumulando un bel po' di ricavi. Quindi al momento PayPal potrebbe essere il modo migliore per investire nella crescita delle società cinesi. Come sapete io non investo assolutamente in società cinesi, però PayPal è un simpatico modo in diretto per investirci. Ovviamente non è l'unica ragione, però finalmente c'è un reale catalizzatore a livello di business per PayPal. Ne aveva tanti a livello di valutazione, a livello dell'azione, infatti la valutazione è estremamente bassa e la società sta facendo molti buy back. Queste due ragioni da sole potevano essere un buon motivo per cui l'azione dovrebbe salire, ma adesso finalmente abbiamo un catalizzatore di business. Temu e la sua crescita strabiliante potrebbero dare una bella spinta ai risultati di PayPal. Direi che è inutile sbrodolarsi in discorsi inutili, questo video era soltanto per dirvi che finalmente c'è un bel catalizzatore che riguarda PayPal, perciò possiamo finirla qua. Se avete domande, considerazioni, idee, scrivete nei commenti. Ricordatevi per favore di lasciare un mi piace, di iscrivervi al canale se siete nuovi e di condividere il video con tutte le persone che conoscete. Fino al prossimo video, buoni investimenti a tutti, ciao!